E what's up a tutti ciurma e benvenuti da giocherina in questo nuovissimo episodio su Life is Strange True Colors Vi ricordo ragazzi che il sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché questa serie possa proseguire Per cui se volete vedere il prossimo episodio cerchiamo di raggiungere almeno i 40 like ragazzi So che ce la possiamo fare Ed eccoci qua di ritorno dopo che purtroppo sappiamo benissimo tutti Volta scorsa è successo quello che è successo Purtroppo ragazzi c'è stato un terribile incidente nelle miniere L'esplosione che Gabe si era assicurato non avvenisse C'è stata lo stesso e questo ha appunto fatto sì che Gabe morisse ragazzi È stato veramente un duro colpo Sono cose brutte che dovrebbero succedere e fanno succedere ovviamente nei giochi per farci stare di merda Per cui abbiamo insomma partecipato alla veglia funebre in onore di Gabe Dove purtroppo Ryan si è messo a discutere a litigare con Mac il quale ha affermato addirittura Che Gabe non ha davvero chiamato la Typhon perché era di turno lui e afferma che non è arrivata alcuna chiamata Per cui chissà ragazzi sarà vero sarà falso in ogni caso noi in preda comunque alla confusione più totale Siamo salite comunque in casa e Steph ci ha seguite fino a qua Il punto è che lei adesso si è fatta prendere dalla tristezza più assoluta Dopo aver appunto visto notato questa bottiglia ragazzi qua sopra il camino Beh le avrà evocato qualche ricordo E quindi adesso ragazzi dobbiamo appunto immedesimarci nella sua tristezza per cercare di aiutarla Per cui vediamo un po' Potremmo sentire i suoi pensieri chiaramente Ok Quindi questo chiaramente ha risvegliato la tristezza legata appunto legata ai ricordi evidentemente Perché come potete vedere i ricordi ragazzi sono legati ad oggetti Chiaramente sono legati anche ad oggetti Però la bottiglia è legata al biliardino Non mi sembra ci siano altri oggetti da analizzare per cui analizziamo questo Ah no ce n'è un altro Ce ne sono altre due ovviamente Quindi legato a questo videogioco Mi chiedo a questo punto ragazzi se Steph fosse innamorata di lui Perché erano amici Però sapete come vanno queste cose Di solito Anche se molta gente è convinta che l'amicizia fra uomo e donna non possa esistere Io penso di sì però Boh Ok Proviamo a parlarle e vediamo se riusciamo a risolvere qualcosa Ma non c'è bisogno di essere imbarazzati Allora che altro mi sto perdendo Ho analizzato questo Ho analizzato quello Sì 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 Qua c'è altro infatti Ok Ok a quanto pare lei doveva andarsene ragazzi Ok Proviamo ad aiutarla Non so se potremmo utilizzarle tutte queste opzioni Però direi di partire da biliardino Ah ok Non era per parlarle Era per fare un'azione Ok Non me lo ricordavo sinceramente Avevo un presentimento Non mi immaginavo Ok Questa cosa è interessante ragazzi perché Adesso Ci permettono di giocare Ma posso spostarle No posso soltanto interagire così Ok Ok Già mi sto confondendo Oddio Ok 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 No Ok Madonna No è che Non li hanno Oh Ok Ottimo Perché non hanno Cioè è un attimo invertito Cioè non lo so I tasti come sono Fatto sta che Sono un po' confusa Direi Oh Ok Oh 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 Attenzione 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 Eh vince signori Immagino Sì Il pubblico Mi adora Proviamo a provocarla un po' Sì 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 Il pubblico mi adora Eh 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 Boom Eh Oh oh Attenzione Attenzione Non facciamo cagate Vediamo se Se riusciamo Oddio A portare a casa Anche questa partita Oh no Oh no Cazzarola Forza 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 Eh No 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 Porca vacca Minchia E che mi confondo coi bottoni Ah Oh Oh no No rega sto a dormire Dai oh abbiamo vinto un attimo fa Porca miseria No Oh rega Ok ok Immagino che abbiano Oh abbiano Aumentato la difficoltà A posta Chiaramente Oh 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 No 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 Boom Bitch Forza Cerchiamo di portarci anche questa partita a casa ragazzi Sì Ehi E vince signori Wow Eh lo so infatti ho notato No dai Ancora Oh niente Sì ma rimane il fatto che io ne ho vinte già due Eh te pareva Niente da fare non sai perdere tesoro Adesso sarà ancora più difficile Soprondo Ah cazzo Vedete rega mi confondo porca cazzozza Oh no No Dormo Boh non lo so Ah aspetta ho detto Ah ok ha chiesto se mi piacciono le ragazze No Meno male che ho risposto entrambi perché effettivamente Non avevo letto la domanda eh Però era quello che avrei voluto rispondere se avessi letto bene la domanda No madonna santa Che cosa Che cosa Cosa No Cazzo Forza forza Minchia sta vince Sta vince Ma sta vince perché mi confondo Con i cazzo dei bottoni Oh 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 Eh dai eh dai eh dai eh dai eh dai eh dai eh Eh dai eh dai eh dai eh Cazzarola miseria Siamo pari? Siamo pari? No 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 Oddio No 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 Eh Vince signori Da su su accetta la sconfitta con onore Ok la tristezza è sparita Più o meno Sì? Ok sì Sembra di sì Bene It's kind of crazy that you knew exactly what would cheer me up Don't give me too much credit I'm the one who really needed it Beh si sono aiutate a vicenda insomma Bella sta cosa Ovviamente ragazzi Io credo a mio fratello Per cui se mio fratello ha detto Anche se non l'ho sentito fisicamente e materialmente Se mio fratello ha detto Che ha chiamato la Typhon Io credo a lui Per cui dico che è un gran bugiardo No question I knew he was a jerk But this is another level I think I need to prove that he's lying For myself and for Gabe I've got your back No matter what Thank you Che cibi That means a lot I should head back to work Cool È stato un momento cibi comunque Si sono date sostegno a vicenda Bye Ciao Bye Che carino I know Gabe made that call But did Mac really let the blast go off Just to get back at him Beh ovviamente ragazzi Non è che Si può accusare Una persona Senza alcuna prova Chiaramente Per quanto magari tu sappia Che stai dicendo una menzogna Comunque Devi avere qualche prova Quindi Diamo una piccola pulita Alla stanza Possibilmente Perché C'è un disastro Assoluto Beh certo Ovvio Chiunque può essere Una persona normale Allora Qua c'è shushu Possiamo dare una pulita ai piatti Ok Perché Che schifo Lascia la roba Sozza qua dentro Non è il caso Che poi si è in crosta Per toglierlo dopo È un guaio Abbiamo dato una lavata pure qua Perché ragazzi Sembra una stupidaggine Ma Vivere in un ambiente Disordinato Comunque influenza Anche se inconsciamente L'umore Questa è una cosa Che avevo proprio letto Se non sbaglio Quindi Quando si è giù di morale Bisogna evitare di vivere In un ambiente sporco E disordinato Bisogna sempre cercare Appunto Bisogna sempre cercare Di stare in un ambiente Sano anche Allora Direi che Dopo aver dato una pulita Alla casa Forse possiamo scendere Possiamo andare di sopra What Andiamo a dare un'occhiata Che bella sta veranda Cacchiarola ragazzi È bellissima Wow Cioè guardate Che vista Cioè che spettacolo Regà Cioè vi immaginate Avere una veranda Così avere questa vista Cioè Porca miseria Io ci passerei le ore Che meraviglia Cavolo Qua c'è il barbecue Però ci dà solo La possibilità Comunque di guardarle Le robe Qua c'è una spilla Spilla di che? Qua c'è una spilla Time for something new I knew it I knew this would happen Eventually Fucking See you around Steph Madonna santa Quindi c'è evidentemente Steph appunto Aveva una band Però poi ha deciso Di restare qua Purtroppo ragazzi Poi nella vita Bisogna fare Delle scelte Vuol dire il colorato Vabbè senza Stare a perdere Troppo tempo Comunque Qua intorno Vuol dire Ritornare di sotto Ragazzi Scusate se non sto A leggere A guardare Ogni singolo dettaglio Ma veramente Se no poi ragazzi I video Comunque durano 40 minuti Ma succede poco e niente Nel senso Non voglio che Siano troppo privi Di contenuto Comunque di eventi Che accadono Per cui Dopo aver aiutato Steph E aver dato una Piccola ripulita A casa Direi Di uscire Vediamo un attimo Cosa succede Di sotto Qua ragazzi Purtroppo Cioè poi Vedete Quando succedono Ste cose È triste È a maggior ragione Se accadono In momenti In cui non dovrebbero accadere Vedere È Esatto Sono d'accordo Quello che vi dicevo Un attimo fa Quindi grazie Vabbè Ci devo provare Almeno Esatto Sembra che mi leggono Il pensiero Perché quello che farei Io ragazzi Chiaramente Grazie C'è L'affitto Comunque C'è 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 Ok Mi ha scritto Ryan Chiaramente È stato terribile Non avrei dovuto vederlo So che è un momento difficile Ma possiamo parlare So che ti sto chiedendo il mondo Ma ho davvero bisogno Di parlare con te No qui c'è il diario La paura di Ethan Ragazzi C'è la descrizione Così spaventato Non riuscire a muoversi A respirare Insomma È bello Che ci siano anche queste Descrizioni Tra l'altro Qui non è descritto Come tristezza Quello che ha provato Steph Di sopra Ma è descritto Proprio come Dolore È bello Insomma Che ci sia anche Questa distinzione Fra le emozioni La tristezza di Steph Veniva Dall'amore Ovviamente Quindi Lì ho incontrato Un Gabe Che assomigliava Moltissimo al mio Un provocatore Uno che ti ascoltava Che ti incoraggiava Un sostenitore Una testa calda Un fratello In pratica Quindi Anche per Steph Gabe Era importante Per questo motivo Principalmente Mi dispiace così tanto Grazie ancora Grazie per aver salvato La vita di Ethan Non so cosa farei Senza di lui Quindi c'è Charlotte Che ci ringrazia E ci sono diverse persone Che ci hanno scritto Vorrei vederti di nuovo Daki Che tenero Mi dispiace così tanto Volevo molto bene a Gabe Posso solo immaginare Cosa stai passando Chiamami se ti serve qualcosa Riley Sappimi dire Se ti posso aiutare In qualche modo E Jed Quindi sì Oggi terreno Una piccola cerimonia Per Gabe Ovviamente Poi c'è il MyBlock Ragazzi Cui ovviamente Tutti quanti Hanno speso una parola Per Gabe Quindi È un momento triste Per tutti Proprio perché Gabe ragazzi Era ben voluto E amato Da tutti Principalmente Ancora il telefono L'ho appena guardato Ah ecco ragazzi C'è l'ultimo posto di Steph Un anno fa Ero pronta A lasciare questo posto Per continuare a viaggiare Come faccio sempre Un anno fa Gabe È stato il motivo Per cui sono rimasta Ma anche se adesso Non c'è più E anche se mi manca da morire Ho altre ragioni Per rimanere Grazie per avermelo Dimostrato Alex Anche se vari A biliardino E le ha scritto Per favore Ho vinto in modo onesto E leale Giustamente E ragazzi C'era un commento A quanto pare Di Mac Che ha cancellato Il suo commento Quindi ste cose Insomma Te fanno Te fanno un po' pensare Effettivamente Per cui grazie Jed Ci vediamo Sicuramente dopo Ok C'era un'incisione Qua sullo sgabello Io direi di Uscire E appunto Di dirigerci Direttamente Da Charlotte Chissà Cosa starà passando Anche lei ragazzi Perché appunto Charlotte e Gabe Stavano insieme E sapere tra l'altro Che tutto questo Comunque Si è causato Per Insomma Per Per Ethan Perché principalmente Loro sono andati lì Per Ethan Ragazzi Cioè Deve essere una cosa Devastante Difficilissima Difficilissima Da sostenere Secondo me Ok 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 Infatti Mi ha scritto Charlotte Ragazzi Per fare un salto Al dispensario Ho bisogno Di un consiglio Ok Qui Non so perché Ragazzi Scusate Ma c'è un calo Di framerate Pazzesco In ogni caso Direi di dirigerci Proprio verso il dispensario Ok Eccoci qua Oh Scusate Ah Scusate Scusate Sì Sì Sono io Sì Alex Sì Già Grazie Grazie Questa qua ragazzi Lavora Per la Typhon Non ce ne dimentichiamo Ci sono certi dettagli Che Uno non si dovrebbe Appunto Dimenticare Sto bene Non lo direi mai Ragazzi I've been Trying to stay busy Mostly Yeah Distraction's help How about you I can't even imagine What you're going through Honestly I'm really trying To keep it together For Ethan He's hurting Is he alright He practically Just lost father He's shutting me out He's never done that before Not when it mattered Ha bisogno di tempo Comunque è stato un trauma Anche per il ragazzino Che probabilmente Adesso si sentirà in colpa Gli ha bisogno di tempo Everyone grieves differently Maybe he just Needs some time I've been through a lot together With the divorce And moving He's never shut down like this I just can't get through to him I can't get over The feeling That the one person Who could help me Deal with the aftermath Of Gabe's death Is Gabe What is this? Io non accetterei mai ragazzi Una cosa del genere Perché comunque Emo ci vuole Allora se ci sono testimoni Che dicono Che Gabe Aveva affermato Di aver chiamato La Typhon E aveva detto Che avrebbero Interrotto l'esplosione Poi questo è avvenuto Lo stesso Cioè comunque Ci sarebbero Delle indagini da fare Capite che vi voglio dire Quindi questi Se stanno già parare il culo Cioè perché no? Cioè Che cosa l'osca No no Appunto Appunto Cioè si tratta Cioè si tratta comunque Ma non esiste Proprio ragazzi Cioè Significherebbe Lucrare Sulla morte Di Gabe Cioè Follia Follia pura Ma rifiuta Tutta la vita Cioè Non esiste Proprio Gabe Proprio ragazzi Io ripeto È Follia pura Cioè Caramelle Alchi Quindi dove avvicino Un po' di più Mi salti HC Quindi Gabe Non riusciva a dormire A quanto pare Terra Marijuana Ovviamente qua ragazzi Si avende tutta Sta roba qua Per rilassarsi Diciamo così C'era vetri in it Le magliette le abbiamo guardate Charlotte Cosa starà a me pensando Io ripeto Cioè Ma Cioè ma come puoi Anche solo pensare Di voler lucrare Su una cosa del genere Cioè Sulla morte di Gabe Ma non Cioè No Per me è inconcepibile Inconcepibile Lo dicessi i soldi Mi fanno comodo Sì ma ti rendi conto Chi te li sta Dasti i soldi E perché Te li sta dando Cioè E' fuori E' fuori di ogni Grazia divina Ragazzi Non esiste proprio Ah ok Sì quindi Dobbiamo andare Al negozio di fiori Ah dobbiamo passare Pure al negozio Di dischi Va bene Facciamo una tappa Anche qua Visto che ci troviamo Torno tra 5 minuti O magari 15 Andiamo proprio bene Fantastico Questo che c'ha Che ti è successo Amico Incazzanzo Vabbè comunque Ah Steph è qua dentro A posto Possiamo bussare Ehi C'è letto di passare No Yeah But design just for him And then or Oh Attime idea He'll love that Yeah I'm glad to do so Can you help though I want it to be as good as it can be Ethan gave you one of his comics right Si So What do you think Who would the famous monster slayer Have the most fun Defeating Minchia se disegni bene Porca vacca Che figata Il non morto Oppure signore del mondo di sotto Cioè praticamente Io direi Cioè Cravius è figo ragazzi Sono figli entrambi eh Noi andrei su Cravius C'ha sti tischi Che li volano intorno Cravius sembra molto badass Go with that All right then Oh I got to get back in there There's some stuff My comp book Be cool if you can check it out Help me make some calls I'll see what I can do Ok Che pensimi Non te preoccupa zia Ok Andiamo a completare i dettagli Del quaderno Oh It looks like Steph wants me to do more Than just make some decisions She wants me to play a bar Ok quindi dobbiamo anche interpretare una parte Va bene Fatti il personaggio Il bardo Campo di distorsione Serenata curativa Puntività 10 Come incontrato Thanor Ok Alto What the fuck Direi Alexandra È un po' più Cioè importante come nome no Ok quindi Le abilità Appunto potrebbe essere forse più utile la serenata curativa Ok Come abbiamo incontrato Thanor Io direi una storia divertente Visto che L'aria che tira È quella che è Minchia ci ha messo due secondi A scriverla Va benissimo Ok Così abbiamo fatto anche questa cosa Direi di dirigerci verso il negozio di fiori ragazzi Ok Steph già Ha aggiornato La questione Del cattivone Insomma Per il gioco di ruolo dal vivo Ok Eccoci qua ragazzi Entriamo Vediamo se Mac è qui Non credo sia qui Elena Oh Minchia Sorry No need to apologize How are you dear? Beh Così cosa Mi sto adattando C'è a che Vabbè diciamo sto bene però Sappiamo che non è sincera come cosa E grazie C'è quel quadra Che non cosa Perché è così spaventata Ti arriva una che ti si avvicina E ti fa così Un po' sospetto però Vabbè Perché ragazzi è così impaurita Purtroppo adesso scopriremo il motivo Ok Allora Guardiamoci un attimo intorno Il fatto che abbia ragazzi parlato della dottoressa Che le ha detto che avrebbe avuto più tempo Capiremo presto riguardo cosa Ed è purtroppo una cosa molto triste ragazzi Mi parla purtroppo ragazzi di ricordi Ah mannaggia 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 È tristissima questa cosa ragazzi È spaventosa e tristissima allo stesso tempo Purtroppo ragazzi sta avendo problemi Riguardo la sua memoria Veramente una cosa bruttissima Quindi mi sono persa qualcosa Ah ecco Ci mancava questo ragazzi If they know about my condition They'll make me close this place Holy shit Terrificante questa cosa ragazzi Tutto è confuso Molte cose sembrano non avere più senso Vedete le parole che si confondono I numeri che si confondono I ricordi che svaniscono I volti che svaniscono Proviamo a parlarle Vediamo se Per percorre i tuoi passi Forse è la cosa migliore da fare Perché se non so È sembra che hai un po' che sta succedendo oggi Mi potremmo aiutare i tuoi passi Oh, ma non voglio guardare i tuoi Oh, ma non voglio guardare i tu Hey I... I voglio aiutare Ok, allora Allora Vediamo un po' No, direi di no Sono tutti appassiti Ok, allora Vediamo di trovare il primo ricordo Quindi stamattina la prima cosa che avrà fatto Sarà stata aprire, no? Questo si è rimesso a posto Per cui ha detto che apre sempre la posta Alla mattina Per cui Ah, però dice Ci deve essere qualcosa che mi ha distratta Forse qualcosa Qui Ok Non è questo Forse qualcosa di qua No Forse il telefono È stata chiamata Probabilmente Esatto, sì Sarà stata Riley? Proviamo Proviamo con Riley Ok 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 Torniamo di là Pure questo a posto Per cui Proviamo adesso Con il registratore di cassa Non credo che sia questo Proviamo con i fiori Ok Quindi questo non è Quindi saranno i fiori L'unica cosa mi sa che c'è rimasta Ok Sì Sì Deve essere questo Ah ok Sono a posto i gili Perfetto Perfetto Quindi adesso Manca solo il registratore Chiaramente Eccolo qua Eccolo qua Jed Oddio Non se lo ricorda Io sinceramente Non ricordo Quale scelta ho fatto Ragazzi La prima volta Che l'ho giocato È una scelta Davvero difficile Comunque Perché Risparmiarle il dolore Adesso Non significa Risparmiar Risparmiarglielo Scusate Scusate la parola Difficilissima In futuro Perché Per forza di cose In un modo o nell'altro Lo verrà a sapere Però dirle di Gabe Regà Cioè Sarebbe un colpo Veramente duro Quindi non lo so Temo che glielo dirò Adesso Ragazzi Tanto in ogni modo Comunque lo verrà a sapere Quindi Qui lì They were They were for Gabe's wake Gabe's wake? Gabe's wake I Missed it Alex I'm I'm so sorry Hey It's Excuse me Non volevo Si sentisse in cu Non è colpa sua Se l'ha dimenticata Purtroppo Cioè Non Non è colpa sua Purtroppo Ragazzi Quindi mi dispiace Che adesso Porsi si sente In colpa Chiaramente Per Per averlo appunto Dimenticato Andiamocene Queste scelte Sono sempre Difficili Purtroppo Da fare Perché Non puoi mai Del tutto sapere Quali saranno Le conseguenze No In cosa Quelle scelte Provocheranno È sempre difficile Comunque Allora ragazzi Direi che per oggi Ovviamente Ci fermiamo qui Ripeto È sempre difficile Prendere queste decisioni E Quello che succede Fa sempre male Questo video termina qui Grazie a tutti Un bacione Ciao 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 Ciao